Ciao a tutti, oggi vediamo l'IMU. L'IMU è per così dire l'imposta municipale unica, la vecchia ICI. È un'imposta sui fabbricati e anche sulle aree edificabili o comunque sia qualsiasi immobile censito al catastro urbano, dei fabbricati o dei tierrini per l'appunto. Abbiamo la legge di bilancio 2011 con decorrenza 1 gennaio 2012. È introdotto la IUC, ovvero una componente dove c'era l'imposta municipale unica, l'IMU, la TASI, tassa annuale servizi indivisibili, e la TARI, la tassa sui rifiuti. Successivamente la TASI è stata abolita ed è confluita direttamente dentro l'IMU. Il requisito fondamentale è il possesso dell'immobile che può essere sia la diretta proprietà ma anche l'usofrutto. Sappiamo che nella normativa esiste l'usofruttuario e il nudo proprietario. In questo caso va a pagare l'IMU l'usofruttuario. La potestà regolamentare è rimessa al Comune nei limiti stabiliti della normativa nazionale. La normativa nazionale prevede altresì anche delle esenzioni e riduzioni, ovvero il 25% d'abbattimento per quei contatti a canone convenzionato, il 50% per i comodati d'uso gratuito in linea eretta dentro il primo grado, il 50% per quei beni di rilevanza artistico-culturale e il 50% per gli immobili inagibili, dove sia comunque sia verificata anche da un tecnico comunale questa inagibilità. Non è che possiamo dichiarare noi che è inagibile quando ci sono attaccate le utenze. Dispone altresì, questa è venuta più tardi, l'esenzione per l'abitazione principale, ovvero la prima casa, con eccezione delle ville, villini e castelli. L'aliquota viene stabilita dal Consiglio Comunale nei limiti nazionali, nel senso che la legislatura ha risposto il massimo delle aliquote previgenti fino al 10,60%. Ma ci sono dei casi in cui magari per dissesto finanziario queste aliquote possono essere automaticamente massimizzate tutte quante per far sì che la capacità dell'ente riesca a ripianare i propri debiti, il proprio disavanzo. E questa applicazione fa sì con il dissesto finanziario, una volta che viene accertato, la fissazione delle aliquote permane per cinque anni. Bisogna anche dire che le delibere solitamente dovrebbero essere approvate entro il bilancio di previsione e inviate entro il 28 ottobre dell'anno di imposizione del tributo, entro il 28 di ottobre, al portale del federalismo fiscale, che è un portale dove hanno accesso tutti quanti i contribuenti o comunque tutti gli stakeholders, e dove far sì che una volta pubblicato in questo sito si possa far riferimento e quindi calcolare i vari tributi. Se non viene pubblicato permangono le aliquote che c'erano l'anno precedente e così via. Il comune può altresì disporre anche delle aliquote o isenzioni diverse, e quindi potrebbero esserci magari dell'agevolazione per soggetti fragili o per quanto riguarda particolari categorie di catastali, oppure per quanto riguarda altre situazioni. Mi viene in mente per quanto riguarda l'Imo di Milano, mi sembrava di aver letto che c'era anche per quei fabbricati dove erano stati magari occupati abusivamente, oppure in quei casi in cui l'inquilino moroso non abbia ancora liberato l'immobile e quindi ci sia un provvedimento di sfratto. Sono tutte disposizioni che può comunque regolamentare il comune. Quando ci sono delle agevolazioni è bene anche dire che bisogna comunicarlo al comune attraverso delle dichiarazioni IMU. La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quando è successa la variazione dell'agevolazione. È un apposito modello ministeriale che può essere inoltrato all'ente o cartaceamente, quindi tramite la comandata o anche di persona o delegato, tramite la PEC, la posta elettronica certificata, o anche telematicamente tramite i portali dell'agenzia delle entrate e quindi tramite intermediari abilitati. Quindi nelle dichiarazioni IMU possiamo dire che ci sono delle variazioni che non vanno comunicate all'ente, ovvero per l'acquisto e le vendite. Questo perché andremo a eccedere le informazioni che già sono di proprietà dell'ente perché in questo caso è direttamente il notaio che fa la comunicazione al catastro di variazione e il catastro a sua volta lo rimetti al comune. Noi in caso andremo a comunicare che magari per quell'immobile dalla data Y mettiamo abbiamo acquisito la residenza oppure non abbiamo più la residenza perché, attenzione, dobbiamo andare a comunicare anche qualora non avessimo più dei requisiti di agevolazione. Per quanto riguarda invece i contratti agevolati e quindi a canone convenzionato che dicevamo prima che hanno l'imposta scontata del 25%, bisogna tramite dei modelli comunali oppure tramite un'istanza all'articolo 47 del DPR 445 del 2000 andiamo a comunicare unitamente al contratto di agevolazione che noi disponiamo di quella agevolazione e dobbiamo anche andarla a comunicare qualvolta ci sia la risoluzione del contratto oppure delle proroghe del contratto. In questo modello andiamo anche a inserire gli eventuali altri cointitolari degli immobili così che anche questi possono andare ad avere questa agevolazione e non ci sia un'ulteriore comunicazione di qualche altro cointitolare dell'immobile. Figuriamoci se un immobile ha 10 cointitolari e quindi ci sarebbe un esubero di pratiche da parte del comune. Quando si paga l'IMU? L'IMU si paga in una o in due rate. Un'unica soluzione è dicembre ma solitamente si paga a rate quindi al 16 giugno e 16 dicembre. Al 16 giugno per la maggior parte delle volte si fa un calcolo a base storica la disciplina lo segnala che si può fare anche su base storica qualora il comune non avesse deliberato le aliquote e al 16 di dicembre una volta che sono pubblicate tutte quante le delibere e sono pubblicate sul portale del federalismo fiscale possiamo andare ad elaborarle e quindi fare eventuali conguagli. E quindi abbiamo il 16 giugno e il 16 dicembre. Dobbiamo anche renderci conto che oltre al possesso dell'immobile abbiamo un ulteriore requisito che io qui me lo stavo dimenticando che è la detenzione dell'immobile va in ragione di mesi e quindi dobbiamo tener conto il mese pieno oppure le variazioni effettuate entro o dopo il 15 del mese. Cosa vuol dire? Che se io acquisisco la residenza il 16 di gennaio abbiamo un periodo inferiore e quindi andremo a conteggiare l'IMU anche per quella mensilità nella quale lui ha trasferito la residenza perché il 16 è dopo del 15 dobbiamo considerare sempre 15 giorni per l'effettiva conta del mese. Per quanto riguarda il versamento inoltre dobbiamo considerare anche l'importo ovvero quant'è il dovuto se abbiamo un'imposta inferiore a 12 euro annui non siamo tenuti al versamento attenzione però perché il comune può disporre anche il versamento anche per le insomme inferiori a 12 euro ad esempio il comune di Urbino ha disposto che il contributo minimo deve essere di 2,07 euro che capite bene che allora tutti quanti i tributi sono comunque devono essere corrisposti anche se inferiore a 12 euro annui. Come si calcola il contributo? Si prende la rendita catastale dell'immobile si va a moltiplicare per il 5% e per il coefficiente che per quanto riguarda le abitazioni residenziali al di fuori quindi dei fabbricati industriali che sono il D gli eventuali C ad eccezione del C2, C6 e C4 che sono le soffitte, mansarde e garage vanno moltiplicati per il 160 e per l'aliquota disposta dal comune. L'accertamento in caso in cui non facciamo non ci ricordiamo di fare questo pagamento oppure non disponiamo magari della liquidità per provvedere al pagamento o semplicemente ce ne dimentichiamo ci può arrivare un avviso di accertamento possiamo anche provvedere autonomamente a versarlo tramite l'istituto del ravvedimento operoso questo il ravvedimento operoso è fin tanto che non ci sia avviata un avviso di accertamento del comune è un requisito fondamentale qui avremmo una riduzione della sanzione in ragione del periodo in cui andiamo a ravvederci e facendo il ravvedimento operoso saniamo sia per quanto riguarda le sanzioni e anche gli interessi di mora mentre l'accertamento essendo disposto dal comune o da un agente incaricato avremo la sanzione disposta dal comune ed eventuali agi se ci sono eventuali incaricati il termine per l'accertamento è di 5 anni con il fatto della covid è stato prolungato di un anno per quell'annualità così per permettere anche l'accertamento per tutto quanto quello che riguarda il comune l'istanza di rimborso è quando noi abbiamo provveduto al pagamento in maniera erronea e quindi in maniera eccessiva e quindi entro i 5 anni sempre dell'imposizione del contributo e quindi del versamento anche possiamo richiedere il rimborso oppure un'istanza di compensazione qualora avessimo sempre dei tributi da pagare al comune il MEF prevede che entro l'anno devono provvedere i comuni alla regolarizzazione della partita e quindi di provvedere entro i 365 giorni canonici al rimborso al contribuente che deve anche aver comunicato il Liban ricordiamocelo mentre se andiamo a vedere la normativa nazionale il legislatore mette un limite massimo temporale di 380 giorni mi sembra di avervi detto quasi tutto non mi sembra di aver dimenticato niente grazie e alla prossima grazie a tutti